Pronto un piano Marshall da quasi 500 milioni di euro per diminuire le perdite, finanziate con le bollette con il PNRR, a cui si somma circa un milione di euro per gli investimenti urgenti al fine di sopperire i danni della siccità. Ad annunciarlo è l'assessore regionale all'ambiente, illustrando dati e progetti della regione Piemonte nell'ambito del contrasto alla dispersione idrica. Il territorio è virtuoso nel contrasto al fenomeno, ma non abbastanza. Si stima infatti la perdita di un litro d'acqua ogni tre. Dobbiamo ridurre per salvare ogni litro di acqua potabile, perché le riserve sono al minimo, i cambiamenti climatici ci chiedono di essere più veloci e il tempo non basta, dobbiamo accelerare, ha aggiunto ancora l'assessore. Per questo ciascun ente di governo nell'ambito territoriale ottimale ha messo a punto una propria strategia basata su obiettivi definiti da Arera e un piano di finanziamento ben dettagliato. Da 2017 inoltre Arera ha definito gli obiettivi minimi per valutare la performance dei gestori per i tre comparti del servizio, acquedotto, fognatura e depurazione, per indirizzare gli sforzi dei gestori verso investimenti e comportamenti gestionali necessari al miglioramento del servizio idrico integrato.